lettura del vangelo secondo giovanni in quel tempo maria di magdala stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di gesù ed essi le dissero donna perché piangi rispose loro hanno portato via il mio signore e non so dove l'hanno posto detto questo si voltò indietro e vide gesù in piedi ma non sapeva che fosse gesù le disse gesù donna perché piangi chi cerchi ella pensando che fosse il custode del giardino gli disse signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo gesù le disse maria ella si voltò e disse in ebraico rabbuni che significa maestro gesù le disse non mi trattenere perché non sono ancora salito al padre ma va dai miei fratelli e di loro salgo al padre mio e padre vostro dio mio e dio vostro maria di magdala andò ad annunciare ai discepoli ho visto il signore e ciò che l'aveva detto così siamo giunti a pasqua anche quest'anno una pasqua che celebriamo senza solennità ma è sempre pasqua sì perché la pasqua è il segno che dio mantiene le sue promesse che dopo ogni croce c'è risurrezione che la nostra destinazione non è la fine ma la vita nell'abbraccio di dio leggiamo questo immenso mistero nei particolari dei racconti che i vangeli ci offrono in questo tempo pensiamoci il sepolcro in cui viene posto gesù è un sepolcro nuovo all'interno di un giardino perché il giardino il paradiso originario del libro della genesi è la destinazione di ogni persona il giardino è la nostra destinazione gesù ci attende là in un sepolcro che profuma di vita vorrei offrire un altro spunto di riflessione per questa pasqua così strana come strana è stata la nostra quaresima riparare i viventi è il titolo di un bel romanzo che in questi giorni mi ha accompagnato mi sembra il titolo perfetto per questa domenica la storia parla di un adolescente che uscito con i suoi amici in una fredda notte in cerca dell'onda perfetta da cavalcare all'alba con i loro surf ruggenti sulla strada del ritorno a un incidente ed entra in coma irreversibile i suoi genitori consentono l'espianto degli organi anche se è il cuore il vero protagonista della storia il cuore che viene estratto dal petto del ragazzo va a riempire quello di una donna in attesa di un organo che la salvi grazie ad un trapianto ad un tratto la madre di simone il ragazzo morto si chiede che accadrà al contenuto del cuore di suo figlio che ne sarà dell'amore di giulietto una volta che il cuore di simone e comincerà a battere dentro un corpo sconosciuto che ne sarà di tutto quel che riempiva quel cuore dei suoi affetti lentamente stratificati dal primo giorno o trasmessi qua e là in uno slancio di entusiasmo o in un accesso di collera le sue amicizie le sue avversioni i suoi rancori la sua veemenza le sue passioni triste e tenere che ne sarà delle scariche elettriche che gli sfondavano il cuore quando avanzava l'onda che ne sarà di quel cuore traboccante pieno troppo pieno che ne sarà del nostro cuore con tutto quello che ha filtrato di amore e disamore in una vita ma non è forse questo il senso della grande promessa di dio vi darò un cuore nuovo metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò da voi il cuore di pietre vi darò un cuore di carne anche noi eravamo a rischio di vita anzi eravamo già morti il nostro cuore aveva subito troppi infarti non riusciva più ad amare senza rischiare il colpo di grazia e proprio per un colpo di grazia riceviamo un cuore nuovo che viene trapiantato gradualmente nella nostra vita nella misura in cui lo vogliamo l'uomo nuovo di cui parla paolo nelle sue lettere è un uomo dopo il trapianto rimane l'uomo vecchio ma il trapianto irrora gradualmente ogni fibra trasformandola in noi comincia ad abitare il battito di un altro che non muore solo lui ripara i viventi e i morenti perché il suo amore non ha conosciuto la corruzione della morte conosce solo la vita e ciò che dà la vita si dice che dopo aver bruciato giovanna d'arco i carnefici trovarono intatto il suo cuore in mezzo alla cenere quel cuore non poteva essere distrutto perché la sua materia non apparteneva a questo mondo e il fuoco degli uomini non poteva consumarlo era il cuore di giovanna o quello di dio se amore che vogliamo per vivere è un cuore nuovo che vogliamo oggi è il giorno del trapianto allora buona pasqua a tutti che ci doni quel cuore nuovo che ci permette di vivere con il battito del signore della vita